Smenti ve lo vuoi Com'è, mi dice cagato sotto, lo giuro Che è che ho fatto un bello di dire, però Ehi, vabbè, hai chiesto che segnale che l'ha finalizzato Oh, è fuori gioco Non è fuori gioco, no, purtroppo no Cazzo a morire Com'è, veramente fai Sì, vabbè, vedi che hai fatto una bella parata al canto Oh, se mi fa pure io ho parato Com'è, vabbè, com'è Com'è, che se... che se non puoi un grosso paro è sciato, com'è Mannaggia In che senso che io lo faccio in due, lo scuso? Eri troppo teso Ma che ci fatti? Ma basta Ehi Dammi il pallone, dammi il pallone Fanno sportellate qui Com'è, che sei in rovesciato Posso battere le munizioni? Grazie Che non tira il segno, ma se non hai gli palli Ah, che se cosa si mette strano Mamma mia Ma non hai visto, ma ti hai fatto una cacchetta da un ton di video E ti ho fatto una cacchetta da un ton di video walking with you no, un auley, ma perchè è passato da me ma perchè è voler no brutto che faccio, che faccio come va perchè vai a il suo difensore come va ok infatti io fallo il ciclo come va quando la tengo in google come va! ooo che cazzo è? o se ci sono cc ccp con po scatto chi sto piacere ero un mondo del mondo e l'invito scu eo le foschi di golo maca mi dispiace fuori gioco chi è lo sa vorrei chi è l'elite player ma che cazzo hai ma vado che cazzo fa chi si è fatta la gamma oh ma dove sto ballo eh no che si è brutto vado a livelli bucchini madri 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 santa la madre filippo mi studia dalla madre filippo contabile madre filippo la madre contabile no filippo il contabile filippo il contabile filippo filippo ma che ne viense quando avresti passare filippo ma che stai facendo per il lupio nooo eri colpi belle della storia oh rovesciata vieni come si fa rovesciata buona la marone omae eh eh la buona però dai cool eh che hai fatto viciato non capisce quando mai vieni no ma che stai russi vieni come Roberto Filmi vieni come Roberto Filmi vieni come Roberto ma non è male fatti infatti è prima chi è munito scusate è nata vada a chi sta incredibile ha scoperto bispito come ha scoperto bispito sbito e oh vieni come amato incredibile quando devi passare alto non passare passo basso oh e fa la referenza ma non ci fanno farlo a te però ma non ci fanno farlo a te però referenza tiri tiri a giro wow vieni ah ruffo 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 chi è che ha mandato darmi ruffo 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 guarda cavolo che ti faccio guarda cavolo guarda cavolo che muove cosa a caso oh ma passi ma passi 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 madre di dio vai tutto sotto controllo com'è un referenzi immagino a filippo roca fa il referenziamento immagino a filippo che fa una conferenza stampa vestito della contabile madre c c c la madre contabile no dal madre dei contabili dalla madre dei contabili d piace flippo vestito da padre di tutti gli dei no da padre ricotta com'è al massimo da padre pal com'è perchè marisa giochione e finito 22 a finito l'ho bellissimo vincolo ma vi c'è assai se troppo forte che io lo saio e io ero forte alle medie veramente forte e forte a tutti gli occhi giocano con la pappa pa reale come ma che fate qui come scusa ma ci face uno fall parca va no che fatto c'è boxiate proprio come ma romano ma come si è fatto proprio oh ma che passaggio ci fate che non vuole un gol di filipo ok ok comomenti che si è un'abbalazione come no no e ci fatti fallo come possibile e non fischio no no